Ciao a tutti, sono tornato in Italia per un po' di tempo, questa è mia mamma intanto, ciao, ciao Stiamo andando a Cerealto, che è il posto più o meno dove sono cresciuto da piccolo e poi vabbè vi farò vedere un attimo un po' la situation Stiamo andando a Cerealto 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 Stiamo e Stiamo andando a Cerealto Stiamo e Stiamo andando a Cerealto Stiamo andando a Cerealto Stiamo andando a Cerealto Stiamo andando a Cerealto Stiamo andando a Cerealto